Se volete un video in cui atterro in ranked in tutti i posti dei boss lasciate un bel mi piace perché non ve ne pentirete, mi raccomando. Oggi invece giocheremo con solo armi mitiche, ovviamente finché non entrerò in possesso della prima arma mitica potrò utilizzare un po' tutte quelle che trovo in giro. Appena però ne trovo e ne prendo una posso utilizzare solo quella finché non prendo appunto le altre armi mitiche. Vediamo se riusciamo a fare tutto l'inventario mitico. Prima di continuare col video però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato alle cose oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzone è davvero fondamentale per supportarmi, quindi incontrate sempre che sul supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato anche perché ogni due settimane il codice scade dovete reinserirlo. Grazie avrò di cuore a chi lo farà, è fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto per non perdervi tutti i prossimi contenuti, lasciando un bel mi piace per supportare il video e queste challenge. Mettiamo pronto, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Oggi è tosta eh. Allora ragazzi non punto lo squalo perché è l'ultimo che è uscito, l'ultima boss appunto è stata Icepice. Tra l'altro ieri è uscito un gran bel video dove siamo atterrati allo squalo, abbiamo preso le sue armi mitiche, abbiamo fatto un game davvero pazzesco, quindi recuperatevi quel contenuto. Ma semplicemente perché ci becchiamo subito il rampino. Ci abbiamo subito un bel movement che ci aiuterà sicuramente nell'andare a cercare le altre armi mitiche. Ho utilizzato il termine cercare perché purtroppo sarà un po' una ricerca o chiusi nel senso. Fino alla stagione scorsa che c'erano i medaglioni eravamo molto aiutati quando dovevo fare queste challenge perché cercavo il medaglione, ero sicuro che tendenzialmente erano quelli i player che poi avevano le armi mitiche. E invece no perché adesso nessuno viene pingato in mappa con le armi mitiche, quindi sarà un bel casino. Tra l'altro sono atterrato malissimo, sarà molto 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 difficile quest'oggi. Regà ma questi sono atterrati lì così, insieme, ok? Oh bro, dove c'è sta? Ma questo da dove è arrivato? Da dove ha scavalcato? Aspettate va che quello lo voglio finire. Ok. Donna. Dammi sto pampa va. Dammi sto pampa, t'ho visto che ce l'hai. T'ho visto che ce l'hai. Non è... oh bro! Non aveva armi il bro? Fatemi un attimino nascondere per ricaricare le armi. No, nascondere un cavolo. Questo è il bro di quello che ho già ucciso. Secondo me ha già preso la scheda. Dove è andato? Dove è andato? Perché non mi ha più segnato i passi, regà? Oh mio Dio, questi sono cattivissimi. Questi sono cattivissimi, arrivati così dall'altra isola. Mannaggia la miseria per andare a cercare questo. Questi hanno fatto la cosa migliore, sono andati... Alla fine è sopravvissuto lui. Era quello da solo del primo che ho ucciso. Ottimo. Iniziamo molto bene. Allora, io tra l'altro vi esterno subito quelli che sono i miei obiettivi. Le due armi di High Spice. La minigun sarebbe fondamentale prenderla. E la pistola a tamburo che attualmente c'ha Snoop Dogg. L'arco, lo sapete, non lo so usare. Faccio veramente schifo ed è molto difficile da utilizzare. E poi l'assalto di Miauda è fortissimo, mi piace un botto. Ma nel momento in cui c'ho lo scarmitico, non vi voglio dire che sento quasi che sia inutile. Però effettivamente... Insomma, l'assalto... Madonna, che schifo! Oh, ma veramente? Ma che c'ho oggi? Un doppio liscio clamoroso. Oddio, oh mio Dio. Ok, va bene. Madonna, che doppio liscio che avevo fatto su quello lì, ragazzi. No, 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 calmiamoci un attimino. Eh, qua non ci siamo capiti. Eh, diciamo che mi dovrei anche sbrigare. Siamo in safe e questa è una cosa stra-positiva, eh. Cioè, possiamo avere un po' più di tempo. Però comunque ci dobbiamo sbrigare tantissimo. Eh, ok, regà. C'è Ice qua. No, dai, come mi ha preso? Ma me l'ha sparato lontanissimo. Cioè, la granata era veramente lontanissima da me. Allora, fermo. Perfetto. Ora, devo droppare tutto, regà. Devo droppare tutto. Ciao, signori. Sì. Ok. Vieni qui, baddi. Allora, siamo una baddi, ragazzi. Eh, allora, sapete che c'è? Io per ora me lo tengo il... No, dai, ma curami bene. Ok, mi ha preso. Eh, io per adesso me lo tengo anche l'altro rampino, eh. Che in alcune situazioni, alcune circostanze ci torna utili. Regà, a me segnava un botto di altri passi. Secondo me c'è qualcun altro, quindi dobbiamo stare attenti. Ah, nel frattempo, regà, io ho qui il luto. Esatto, nel caso in cui dovessimo trovare delle altre cure interessanti. Tipo, io lo sparabende quasi, quasi. Ma allora, facciamo una cosa. Prendiamolo, lo sparabende. E per ora vado in giro così. Per adesso vado in giro così. Ok? Direi che... Oh, sì, ci può stare, dai. Però, no, aspettate, l'uscidone me lo faccio. Ora, ragazzi, più veloci della luce verso le altre armi mitiche. Che non sappiamo minimamente dove possano essere. Oddio, ma non l'hanno ancora uccisi i vari boss. Oh, proviamo ad andare a dog pound, allora. Ah, regà, fermi tutti perché abbiamo trovato un lama. E direi che ce lo facciamo. Così almeno prendiamo i colpi che, avendo solo lo scar, dobbiamo riempirci di colpi. Ammazza quanti pochi colpi il lama. Io mi ricordo una volta che ti riempivano. Oh, ma veramente? Non hanno giusto ancora nessun boss. Ma che è sta partita? Eh, ok, qualcuno ci sta. E va bene. Però... Oh, cioè nel sen... Tra l'altro mi basteranno 192 colpi per far fuori il boss, se non l'hanno ancora killato. Ma che è qua sta situazione? Dai. Annaggia la miseria. Ma veramente nessuno ha killato Snoop Dogg. Ma che cosa sto vedendo? Penso prima partita in questa stagione in cui nessuno... Non ci sono venuti a lootare Dogfound, regà, ma com'è possibile? E non c'era neanche tanta gente allo squadra alla fine in sto game, eh? Ah, oddio, Snoop Dogg fa cose. Snoop Dogg fa cose. Ma mi ha visto o non mi ha visto? Scusate. Dovrebbe avermi visto. Ok. Io sto sprecando troppi colpi a caso. Devo sbrigarmi a killarlo, regà. Devo proprio sbrigarmi a killarlo. Perché se no è un disastro. Perfetto. Allora. Bro. Ho ucciso il boss, quindi... Eh. Ok. Andiamo a ieri 5... No, non mi ha dato il 5. L'ha subito ritirata per ricaricarsi l'arma. Vabbè. Allora. Facciamo così. E ci andiamo ad aprire il bunker. Allora. Allo yacht cose... No, regà. Ma veramente non si sono bombati i boss. Ma perché non si sono bombati i boss? Allora. Io ve lo dico. Sto per fare una pazzia, eh. Io ve lo dico. Sto per fare la pazzia delle pazzie. Però avrei preferito trovare medikit. Ok. 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 Perfetto. Piuttosto che lo spara bene voglio i medikit. E andiamo alla grotta. Regà, andiamo. Stiamo andando alla grotta. Probabilmente l'hanno ucciso. Non è morto il boss, eh. Perché... No, regà. La safe è ancora più... Ma come faccio? Ma devo fare mille metri a andare. E mille metri a tornare. Va bene. Ci proviamo. Regà, ma dove sono i nemici? Che poi siamo già in 31. Quindi... Oh, cioè... Non è... Di sicuro non è una lobby di bot. Perché... Prima abbiamo beccato dei player. E soprattutto perché nelle lobby piene, piene, piene tanto di bot non ci si killa. Cioè, di solito, se arriva in questa fase del game che si è ancora tipo in 50 e passa. Ma più che altro, regà... Non mi era ancora mai capitata una partita del genere. Più che altro io adesso spero di trovarla, la miniganna. Perché l'altro problema adesso potrebbe essere quello. Comunque almeno le schedine dei boss... No, volta a terra, se nessuno si apre il bunker le potrebbero mette, eh. Almeno le schedine dei boss. E niente, regà, ovviamente mi è morto anche Snoop Dogg. Perché è nella tempesta. Io c'ho solo due medikit. La cosa che sto facendo è follia. Eh, regà, qua il cannone da bevute non mi conviene perché ci mette troppo per curarmi tutto. Il problema, regà, è capire dove è morto. Sarà qua il suo coso? No, regà, non stava qua. Lui spesso stava anche verso davanti il bunker. Però... La stessa volta non c'è stava. Eh, mamma mia, regà. Cioè, come cercare un altro in un... Ai, 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 eh. Sempre sì ci sta. Perché, ripeto, potrebbe anche essere venuto qualcuno a prenderselo, eh. Qua, regà, io ogni volta che vengo qui alla grotta c'è sempre qualcuno. Quindi io lo vedo sempre triggerato. Sempre che segue le persone. Quindi, di fatto, non so neanche bene quale sia il suo percorso predefinito, più che altro. Eh, no, regà, non lo troverò mai. Cioè, impossibile da trovare, dai. Ma io non so neanche se morendo dalla tempesta magari non la droppa neanche. Non droppa nulla, magari. Non lo so, regà. Sinceramente non lo so. Che vedevo di... Eh, boh. Andiamocene, allora. Che disdetta, regà. Che partitaccia. Ma più che altro, regà, io non mi spiego come sia possibile che nessuno sia andato nelle zone dei boss, regà. Questa cosa è inspiegabile. Cioè, che poi siamo già in dodici, ripeto. Quindi mi sa che c'è pure più di qualche traiardino in lobby, altro che... Ok, regà, stanno a sparare qua. A parte, aspettate, mi vorrei un attimino curare io, invece. Mi vorrei un attimino curare. Mi aspettate un attimo, va. Stanno anche a pushare, regà. Ah, ma regà, sto scarro è troppo forte. Sto scarro è veramente troppo, troppo forte, regà. Mamma mia, dammi un po' dei colpi qua che mi servono e sennò siamo messi male. Ah, il bro ha fatto il giro di qua. Hanno fatto uno dall'altra. Ah, sparicchiano. Uno ha fatto un reboot. Mamma mia, regà. Ok, questi erano bot. Oh, aia. Questo no. Oh, mio Dio. Questo no. Vabbè, anche 10 kill. Molto bene. E l'ho sottovalutato. Stava lì fermo così a sparare. Vabbè, tanto la partita l'avrei rifatta a prescindere perché è stato uno schifo, regà. Ma, tra l'altro, faccio un attimo d'aspect. Giocatore successivo. Voglio vedere se c'è qualcun altro che ha preso qualche altra arma mitica. Ma mi sa di no, regà. Mi sa di no, regà. Cioè, nessuno ha preso niente. Questi stanno a camperare nel cespuglio. Tra l'altro stanno qui vicino dove stavo a fai da io. Ma non ci posso credere. Vabbè. Allora, volete ridere? Io sto registrando giovedì sera alle 22.30 circa. E Fortnite ha appena fatto un cambio armi, un cambio del loot. Quindi noi adesso giocheremo con il nuovo loot che ci sarebbe dovuto essere già da giovedì pomeriggio quando abbiamo fatto gli altri video. E quindi niente. Se vedete delle armi diverse rispetto alle altre partite il motivo è quello. Comunque niente, regà. Quel tre... Quel... E perché ogni tanto Snoop Dogg mi viene chiamato Travis Scott? Mannaggia, la miseria. Dunque, quello Snoop Dogg l'ho proprio sottolto perché stava lì fermo. Pensavo fosse... fosse quella classica mandria dei bot che ogni tanto fa tipo un agglomerato di situazioni varie. Non lo so. Invece c'era 10 kill ma la serata mi ha pompato proprio easy. GG per lui. No, e poi ero un po' preso male, regà. La partita di prima ero proprio preso male. Cioè, prima volta che nessuno si va a prendere le armi mitiche. Ma nessun altro boss. Ma che c'è... Ma è mai successo? Ma neanche nelle lobby dei bot che ogni tanto capitano perché Fortnite lo fa per riempire le lobby. Alcuni di voi... Ma perché non ci sta venendo nessuno manca lo squalo? Oddio, come prima. Che poi molti di voi potrebbero dire vabbè G, ma allora non andare allo squalo che almeno è l'unica zona dove sei sicuro che qualcuno ci vada. Eh, lo so, regà. Però purtroppo mi tocca a vinisce perché mi devo prendere il rampino. Ripeto, ve l'ho già spiegato. Il rampino è troppo importante purtroppo in questa situazione. Troppo, troppo, troppo. Comunque c'è la cappa un po' di armettine nuove anche i pump alcune cose sono cambiate alcune rarità del tac non ci sono più per esempio sono cambiate un po' di cosette in realtà c'è stato un bel cambio armi ma voi lo avrete già visto perché insomma ripeto, sto registrando molto prima rispetto a quando vedrete sto video due giorni prima ma fa ridere che tra una partita e l'altra c'è stato il cambio armi cioè fa troppo ridere sta cosa. Eh, regà cerco di accelerare i tempi cerco di accelerare i tempi cerco di far fuori subito eh, vabbè, dai ma stavo dietro la ringhiera però ahia eh, regà devo per forza rischiare un pochino devo per forza rischiare un pochino perché se no è un macello eh, baddy non posso fare la baddy adesso ferma in questo momento no non so neanche se aprirlo effettivamente il bunker eh, vi dico la verità vi dico la verità non so se aprirlo ma sì, dai ma perché no eh, poi però scappiamo scappiamo se non ci fossero domani e niente la grotta in safe cioè per una volta che voglio lo squalo fuori safe e la grotta in safe niente, io vi ho detto queste challenge sono l'uomo più sfigato del gioco ma proprio a mani bassissime ecco la nuova la mitraglietta a fuoco rapido l'hanno messo di nuovo allora ecco che stanno sparando ma io regà me ne vado subito questa volta non perdo tempo c'ho pochi colpi purtroppo questo è un problema ok a dog pound l'hanno presa vado comunque di nuovo da da Eminem mi voglio prendere la minican a questo punto oh, questa è una partita normale allora, va bene poca gente allo squalo strano, eh però oddio regà c'è uno qua ne sono pure ripreso col mio stesso oddio perché pensava che me ne fossi andato mi sa no, mi sta sparando il compagno probabilmente dammi i tuoi colpi da ma che cacchio ok ho visto anche qualcuno spostarsi oh mio dio sono un team questo sono un team questo oh mio dio spero eh, regà me devo prendere sti colpi anche se saranno pochi madonna santa oh, comunque i colpi dell'assalto non si trovano più, eh i colpi di assalto regà non si trovano più ah, fermi questi dobbiamo iniziare un attino la sera ma se sono divisi ne approfitto ok, ho 17 colpi ok ok, perfetto lutiamo no, regà veramente mi sono fermato per lutare i colpi di assalto ma che è successo? li hanno tolti dal gioco? oh, niente, regà manco Eminem se stanno andando a prendere ma sapete forse perché un'idea mi è venuta ci sono le missioni ci sono le missioni settimanali probabilmente la gente sta a fare più che altro quelle più che a tryhardà è l'unica spiegazione che mi do io cerco sempre i momenti perfetti per fare queste challenge allora, meno male che sto beccando la maggior parte bot oddio, la dinamite la dinamite, regà questa in build in alcune situazioni spacca veramente tanto, eh oh, no, 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 no però vedi che te devi sta ferma cioè, vedi che te devi sta ferma, però mannaggia la miseria eh, regà no, mi stanno sparando brutta storia si stanno sparando di brutto dietro di me, regà si sono beccati dei team mi sa mi pingo dove sta, proprio mi pingo dove sta così vediamo un attimino ah, provo comunque ad entrare da qui dai mannaggia la miseria sto ghiaccio maledetto ok, ok, ok lo sento dov'è? dov'è, 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 dov'è è qua sopra? è sopra? è sopra? no, regà ci avrà pochissima vita no, sta dentro sta dentro sta dentro il coso no, passi di qua ma dov'è? ma dov'è, regà? dai, però non è possibile ma lo nascondono ma lo nascondono, regà regà, lo nascondono no, no cioè, dov'è? cioè, letteralmente, regà è un fantasma ma dov'è? ma vai che cos'è sta mano in cielo? madonna, meno male regà, Eminem è morto così cioè, che cos'è? che cosa sto vedendo? regà ma che cosa sto vedendo? ma che cosa sto vedendo? ragazzi ma che cosa ho appena visto? Eminem è morto l'abbiamo resciato ma perché? e vabbè, ovviamente è morto no, regà no, no, no fermi, fermi, fermi vado a prendere l'elicottero mi prendo quest'altro medikit però vado all'elicottero mi prendo l'elicottero se l'hanno lasciato o regà, anche io ero salito qui cioè vabbè, non l'avrò visto io stava dietro qualcosa ma che ne so che poi qui mi potevo fermare un po' anche a lutar il bunker, eccetera però non credo ne abbiamo bisogno dai safe, sempre molto fortuna oddio, sapete che potremmo provare ad andare anche al pozzo? sapete che si potrebbe provare? regà, forse ce la facciamo a prendere pure lei se non mi faccio no regà no regà, no regà, no regà no regà, no regà ho pure laggato fermi ok ah, mi faccio già un medikit in realtà perché tanto tolgo i medikit per prendere l'arco però ci siamo ragazzi cioè a meno che io adesso mi faccio uccidere come un pollo incredibile mamma mia regà la minican scioglie di brutto anche i boss c'è in tapa oh bro ho ucciso la tua capa quindi sono tuo amico adesso anzi sono il tuo capo ecco diciamo così ah, prendiamo quell'altro nuovo di 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 cioppa e andiamo eh regà c'è gente in macchina io con l'arco posso fare delle buone hit a quelli che stanno in macchina eh comunque siamo ancora 21 stavolta mi sparano ok fermi 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 no 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 fermi 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 ah da da sopra da sopra la casa eh cioè stavamo tutti qua madonna o no ok sì proprio lì ma regà perché stavamo tipo tutti ma perché stiamo regà ma laserato cioè non ho avuto tempo ma cioè io non mi aspettavo questo e faceva il giro di là due player davanti tre a destra ma quanti player c'erano ma che è il video di oggi è una maledizione eh niente regà sta partita stavamo pure sopra lo squalo quindi sarà bella complicata mamma mia comunque cioè la parte difficile di questa challenge è teoricamente prendere le armi mitiche uscire vivi dalle zone dei boss e invece no stavo a prendere le pizze fuori cioè ogni fight che ho fatto al di fuori quasi tutti l'ho persi ma questo regà mi ha tirato una laserata cioè non ho fatto in tempo neanche a coprirmi un attimo madonna eh stavolta infatti c'è stato il rambotto di gente qua regà oddio i buncadili regà è vero hanno messo pure i buncadili al posto dei dei fortatili introvabili eh perché adesso è una partita di prima col cavolo l'abbiamo trovati però eh regà qua oh mio dio ok oh mio dio bene ma questo già lo scarmato l'ha trovato dunque regà l'ho chiamata eh cioè l'ho chiamata proprio mi sono proprio voluto portare sfiga stavo a dire oh ma dai boss non ci sta venendo più nessuno ai boss non ci sta venendo più nessuno bam la lobby oh ma gli ak però anche meno cioè nel senso me li sta spammando eh ok la R tattico quello vecchio quello vecchio e non le ultime modifiche che gli avevano fatto non male oddio le impulsi pure queste tre me ne ha droppate ma lol ah lì fermi tutti facciamo fuori i più player possibili chiaramente e ci mancherebbe altro però questo si sta sparando eh un qualcun altro eh sì regà gli scitini tocca un attimino fassili no regà hanno preso l'elicottero per venire qua ma che cosa sto vedendo oh mio dio eh questo oddio mi sembrava un giocatore regà lo sapete mi sembrava un giocatore mi sembrava ok la bo il pozzo l'hanno l'hanno killato bene sono contento se sono presi un boss ma che devo fare per avere un pump regà che devo che me devo inventare ciao bro anzi la beddy ciao grande beddy dai 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 vai giù beddy dai un po ok allora droppiamo questo no bro non mi devi più sparare ok c'ho tutto il no 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 oh ma fa qualcosa porca miseria ma fa qualcosa la beddy qui eh regà quello che sta qua sopra è bello assatanato ma che hanno fatto qui no il portaforte qua hanno rimesso madonna santa regà qua che cacchio hanno combinato vabbè speravo no niente non ci si può passare ok meno male via andiamo via me ne frega niente dalla card ovviamente sarebbe stato meglio aprirlo il bunker ma va bene comunque regà ma pure il quadro dog pound in realtà non hanno ucciso il boss il problema è che non ho abbastanza colpi mi sa per killare Snoop Dog lo sapete lo sapete mi sa che non ho abbastanza colpi per ucciderlo vabbè io ci provo no dai sto palesemente hittando la testa sto palesemente hittando la testa ok stavo palesemente hittando la testa comunque ragazzi allora facciamo così no devi prendere l'arma mitica l'arma mitica ok facciamo così sì in realtà sarebbe stato più intelligente prendere magari il bunkatile e tanto il movement già ce l'ho ma va bene anche così raga ok comunque regà è pazzesco hanno preso al pozzo nitroglicerina dynamo che di solito nelle mie partite non se la fila mai nessuno e non hanno preso queste qua ma io non ci sto capendo nulla ho capito che la maggior parte sta bene allo squalo o sta a fare varie missioni regà mi sono ottenuto la card oddio meno male pensate aver preso la card e tolto qualche arma mitica no regà passi via regà quella grotta me la prendo con un po' più di calma perché anche qua non è venuto nessuno ah e adesso me l'ha data una di impulsi ma non so sarà buggato vedete infatti me lo ricordavo che stava qui mamma mia comunque le armi mitiche sono veramente 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 forti veramente veramente forti raga eh la flare gun regà quella con cui mi stavano a becca prima eh l'assalto pesante l'hanno aggiunta anche così come arma normale oh regà ma colpi assalto veramente cioè non si trovano cioè non si trovano non si trovano i colpi assalto le cura bomba hanno rimesso allora ho tutte le armi che mi ero prefissato come obiettivi vi dirò di più non pusherò più a caso sarò molto accorto sta partita non la posso failare vabbè tipo questi qui dovrebbero essere dei bot ma non sottovaluto più nessuno regà cioè sto proprio in modalità full tryharding perché evidentemente oggi non me lo posso permettere manco contro i bot mi posso permettere di chillare un po' più tranquillo dico quando li becco durante le partite eh si sta sparando qui brutalmente anche da lontano di conseguenza vi dico che lascio perdere via 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 vado verso centro safe ok regà io comunque da così lontano se posso do fastidio allora senti aspetta stat è buono non devi fare niente adesso stiamo qui a camperare e io do giusto un po' di fastidio no regà questi sono quelli del pozzo lì c'è c'è nitroglicerina c'è c'è stanno quelli con nitroglicerina lì eh non mi devo fare ingolosire a parte da qui ci dobbiamo spostare potremmo andare a dare un'occhiata allora diciamogli di muoversi adesso no è un macello regà eh ah no gli ho detto di muoversi lì però vabbè no ma questi stanno proprio sul tetto regà quelle nitroglicerina stanno proprio sì sì quello mi sta sparando no no lasciamo stare allora ma ma pure qui stanno sparando un po' madonna ma stanno tutti qua ma che so ste lobby o comunque regà io ho mandato lì il povero il povero Eminem vabbè no regà gente con la macchina ma che mi hanno seguito ma che mi hanno seguito regà ma è così no no sono saltato via ma mi hanno seguito raga no 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 dai non è possibile non è possibile regà dai non è possibile eh no niente sto per scivolare nell'oblio eh bro non sei tu che mi interessi è quell'altro team che mi interessa so quei due che mi hanno palesemente seguito regà eccolo eccolo aspetta ok per fortuna regà si è fatto ingolosi da coso se sono fatto ingolosi da Eminem meno male perfetto guarda un po' il caccia leggendario pure che hanno rimesso il fucile pesante il pump pesante un po' di robettina regà hanno messo ripeto ma insomma l'avrete già vista perché questo video esce due giorni dopo eh però non erano il team con nitroglicerina io ho paura pure di quel team madonna regà che partite complicate no regà oddio c'è già madonna ah fermi qua c'ho subito l'altezza mi conviene ok mamma mia lo scar sto usando principalmente lo scar regà perché da ste distanze chiaramente è il migliore il bro non so come pretendesse di fai darmi così ok due team da due e io da solo ok eccoli eh regà la duo sta qui sono quelli di nitroglicerina oddio mi pinga mi pinga eh no 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 ok ah sì vabbè oh mio dio c'ha pure il cecco quello regà ma sbaglio l'altro team pure ci sta sparando eh regà quello mi tiene col cecco cioè quello mi tiene col cecco eh quell'altro mi pu eccoli qua gli altri due mannaggia la miseria no 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 non ti puoi ribaltare adesso però niente sono andato addosso all'altro team io sono andato addosso all'altro team no regà avevo il centro della safe se solo fossi stato più fortunato cioè più fortunato più mirato madonna santa sto ghiaccio quanto te fa scivolare però se solo fossi stato più bravo con la mira con lo scar questi li avevo distrutti avevo vinto la partita eh vabbè eh regà ma quelli là sopra non lo lasceranno mai eh il punto più alto della safe stanno pure con la flare gun ma questi mamma mia eh che modo sta attento pure alla guarda lì se avessi avuto il cecchino regà se avessi avuto il cecchino si stanno curando ok stanno sparando all'altro team teoricamente i passi qui non glieli dovrebbe segnare ancora non glieli dovrebbe segnare i passi qui li tengo sotto controllo qua così stanno a sparare con l'altro team lì ok ok sta nittato perfetto perfetto regà vado a prendere io adesso l'altezza là no nitroglicerina io in realtà sono tipo tuo amico let's go regà let's go che partite complicate mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ho dovuto aspettare per forza che si pushassero fra loro gli ultimi due team e poi mi sono inserito che dovevo fa nient'altro più che altro senza pump da vicino e senza cecchini a risolvermi la situazione da lontano da solo contro due è difficile ma anche in singolo sarebbe stato impossibile detto questo ragazzi mi raccomando vi ricordo codice creatore ggy yt tutto grande tutto attaccato negozio oggetti di fortnite fondamentale per supportarmi iscrivetevi al canale se ancora non è stato fatto per non perdervi tutti i prossimi contenuti lasciate un bel mi piace per supportare queste challenge e consigliatemi altre da fare sotto nei commenti per me è tutto ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale ciao ragazzuali ciao